Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episode 3 della nostra partita in Rise of Industries siamo nella città di Saint Michel, che ovviamente avrò pronunciato male e nello scorso episodio abbiamo iniziato a produrre un po' di farina questo ha creato dei problemi che mi avete fatto vedere nei commenti cioè, indicato nei commenti e questa è tutta la produzione di legname, funziona tutta, teoricamente perché se funziona la seconda deve per forza funzionare la terza, le strade sono tutte uguali e adesso abbiamo un'altra falegnameria potremmo girare meglio questa parte però per ora direi di non fare ulteriori investimenti perché questa fabbrica di per sé funziona cioè fabbrica polo industriale quello che funziona meno di tutti purtroppo è questo qui e dico purtroppo perché avete ragione voi allora innanzitutto, questo qui era diventato di colore nero probabilmente per un bug grafico perché vedo che ora ricaricando la partita non è più nero prima cosa però comunque forse ci avevate preso se è diventato nero per magari un bug grafico ma la causa principale è la fabbrica di farina che produce inquinamento infatti vedete che per esempio questi alberi sono senza le foglie poi i polli sono tutti malati e ovviamente sto inquinando tutto quello che c'è qua attorno quindi questa è decisamente una brutta è stata una brutta idea metterla qua e la andiamo a eliminare il prima possibile dunque se la dovessimo andare a eliminare il prima possibile innanzitutto vediamo cosa c'è dentro nada allora elimino il prodotto porto il magazzino più vicino poi la spegniamo prima di tutto vediamo anche qua farina ne ha il 18 non facciamo finire neanche questo ciclo produttivo e disattiviamo l'edificio lo svuotiamo quando non c'è dentro a parte che poi uno di grano nel senso quanto ne ho poi dentro nel magazzino l'urale ne è zero ok allora recuperiamo quel grano lì così dovrebbe andare tutto bene poi dopo la spostiamo dopo la spostiamo dovremmo aver finito le tecnologie per i campi no mancava pochissimo quindi andiamo a riempire anche questa qua di campi e ora stiamo cercando di consegnare questo mi pare qui o qui è Emporium era Emporium non penso ce la faremo ma ci proveremo lo stesso potremmo cercare di mettere un magazzino più vicino alla città perché questo qua ecco potremmo ragionare in questa maniera fare un magazzino delle materie prime quindi che accumula sostanzialmente non questo tipo di legno ma questo e questo e poi il legno già lavorato lo facciamo uscire tipo qui mettiamo un magazzino in questa zona collegato qua in maniera tale che ci si va a liberare tutta questa strada e tra l'altro anche il petrolio potrebbe utilizzare questa strada qui ovviamente sarebbe da spostare questo più in qui così facciamo una strada a doppio senso perché adesso come strada abbiamo questa e questa cioè questa qua e questo ok ma potenzialmente cioè fare una strada in un senso e una in un altro così raddoppia il traffico quindi insomma è meglio fare due strada al senso unico piuttosto che uno ovviamente raddoppi lo spazio utilizzato ma non dovrebbe essere così importante questa cosa possiamo fare altre pozze di petrolio qui ma direi che va bene sarei che non mi ricordo come si fa a vedere quanto petrolio è rimasto cioè perché c'è la possibilità di fare questa cosa però non mi ricordo come allora alt toglie queste cose qua shift no control control tab 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 ecco qua c'è ecco qui allora questo giocimento che poi è composto da 5 pozze anche questo è composto da 5 1 2 3 4 5 qua ci sono 5 giocimenti di gas e sempre un quinto una quintetta una quintina quindicina vedete anche qua sono 5 e questo qua è più grosso quindi abbiamo iniziato da quello più grande io andrei proprio a estrarre tutte le risorse di materia prima poi se anche non andiamo a espandere la fabbrica pazienza comunque dai togliamo la pausa e vediamo un po' che cosa succede qua non dovrebbe esserci dentro più nulla perfetto allora la andiamo a demolire si demolisci mi è costato un bel po' questa cosa ma pazienza ora questa cosa qua non è tanto buona perché questi fanno quasi tutti questa strada qua da vuoti per arrivare qua poi mi avete fatto notare che io sto riempendo d'acqua ci dovrebbe essere i destinazioni questa la andiamo a togliere in maniera tale che la portano normalmente è inutile che fare una una linea apposita diciamo allora qua potrebbe essere interessante avviso ricerca campi completata buono era qui sì allevamenti più due ne ho a fare pure questo anzi no no in questo momento io voglio assolutamente trovare innanzitutto la tech perfetto non voglio fare questo voglio vedere se c'è qualcosa appunto nel inquinamento cioè che sono sicuro che c'è non so dove però stoccaggio estrattore no questo depuratore d'aria depuratore chimico depuratore impianto di trattamento delle acque allora costruire impianti di trattamento delle acque costruire sì ma cosa servono cioè perché ci sono più livelli di inquinamento quindi non solo uno slot di destinazione ah questo è bello questo è ottimo i magazzini diventano utili davvero così strade questo l'abbiamo fatto iniziamo a buttare dentro una di quelle qua vediamo se c'è una mappa dell'inquinamento camion prodotti centrali logistica risorse negozi edifici città non c'è quindi non sappiamo quanto inquinamento ci sia qua non è vero c'è la possibilità di saperlo non mi ricordo i tasti non mi ricordo i tasti c'è sono sicuro stato no strumento indagine perfetto è questo qua questo qua ora ci potrebbe dire pollution 96% ok mentre qui 0 non so se purtroppo non posso ingrandirla questa finestra quindi spero riusciate a vederla però il numerino qua è il primo vedete 100% ora vediamo fra quanto scende allora prendiamo questo angolino qua che è a bordo strada è sempre a 100% però magari l'angolo estremo qui del campo che è già un numero particolare 93% 73% vediamo fra un po' se sarà sceso perfetto tanto della farina per ora ce ne possiamo fare anche meno perché tanto non abbiamo ancora l'olio quindi non ci serve niente dunque fattorie no forse devo andare qua probabilmente si aggiungi campo allora qua ce ne sta uno ah qui ce ne sta uno e l'altro così ok se il modo migliore per costruire probabilmente è questo quindi una cosa che mi piacerebbe avere sarebbe il metro per riuscire a fare le cose si qua il traffico è un pochino imballato forse ce la facciamo forse ce la facciamo guardate che sta tornando ad emporio forse ce la facciamo per davvero perché poi non so cosa succede se si fallisce un obiettivo vediamo un po' qui info era quest'angolo qui 63% no guardate che già sta scendendo anche questo qua quindi pian pianino sta scendendo da solo ora però quello che dobbiamo fare noi è arrivare a fare il polo fritto mettiamoci un focus nella nostra testa allora se ne mettiamo un'altra tipo qui e gliele metto tutti attorno dovrebbe andare bene aumento di stipendio eh what eh no 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 io non voglio pagare di più questa gente che vuole il salario minimo allora ragioni un momento se faccio così ok e vado a mettere un'altra fattoria questo è largo così quindi diciamo qui ok non è facile prendere misura almeno non riesco a farlo in maniera intelligente era qua giusto 4 quadretti grandi si ok 1 deve essere ok qua no pensavo di poterlo infilare lì invece se no beh perché si sovrappone veramente un altro campo questa è la risposta più sensata anche speravo di riuscire a infilarne uno da questa parte ok l'ultimo lo posso piazzare tipo qua perfetto abbiamo altri campi di grano in questa situazione vediamo se è sufficiente una strada di questo tipo penso di sì questo qua è da spostare poi tutto questo non è che è tornato nero non capisco il motivo ragazzi allora info qua c'è un po' di inquinamento ma è di meno mi stanno portando l'acqua sì quindi c'è acqua sufficienza e questa è la produzione di grano che dovrebbe garantirci la possibilità di fare farine e polli ora vorrei fare anche un campo di e lo possiamo fare dopo di olio quindi di un oliveto mi serve la tech cosa è successo? paumento di stipendio ricerca dopo la terra d'aria completata ah perfetto l'uliveto bevande beh non so chi beva l'olio diciamo che non dovrebbe essere tra le priorità bere l'olio è questo qui ok facciamo l'olio d'oliva così andiamo di olio allora questo lo distruggiamo questo qua lo vorrei spostare mi dispiace buttarvi tutti questi ma secondo me è da rifare tutta questa zona anche quella strada qua qua mi piace come è venuto fuori il tutto qua sta girando tutto abbastanza bene però vorrei fare in modo che il magazzino in uscita così mi piace ma poi già che si biforca con le uscite direttamente davanti c'è quindi una strada che arriva diciamo qua e questo qui magari lo sposto indietro in maniera tale che ci sia appunto questa strada libera che poi vorrei spostare di una casella più dall'altra parte siamo ma probabilmente ce la facciamo ragazzi non voglio cantare vittoria troppo presto ma sembra che ci sia una quantità di legna moderata sì decisamente questi abbiano tutti però non gli arriva la legna in tempo ho fatto un achievement city planner perché alcuni non gli arriva la legna in tempo se ci metto un po' da qua uscire la legna cosa succede? evento marketing in interessi sui nuovi prestiti ridotti di 42% wow come si fa a prendere un nuovo prestito? scusate questo è il prestito iniziale allora panorama negozio rotte logistiche mercato globale stato libro delle ricette panorama bilancio ma questo è il panorama diciamo che non conta per quanto riguarda il chiedere nonissimo questo quindi questa è la concorrenza no cioè penso che dobbiamo prendere un altro prestito francamente questo dobbiamo fare questo malus qua pazienza allora vediamo di andare a mettere fattoria quello per l'inquinamento strutture depuratore dell'aria e ci starebbe bene qua ma non ci sta anche questa sta inquinando parecchio e la piazzo lì in realtà è che ritorno è da esserci un po' di bosco anche lì attorno molto bene qua l'acqua c'è pure qua l'acqua c'è qua c'è l'acqua che il grano velocizziamo un po' le cose per favore ok stiamo uscendo le olive ora dove posso andare a mettere la fabbrica di farina che comunque dobbiamo fare potremmo creare qua una volta un altro cement manufacturing ma prometto ce la facciamo davvero ragazzi a fare questo allora potremmo fare qua una zona dove andiamo a produrre per la nostra dove è il libro delle ricette qua allora non interessa facciamo il campo di olive poi pensiamo ai progetti a lungo termine più avanti allora io voglio mettere tutti i campi in questa zona penso che questa strada riesca a servirle entrambi non dovrebbe essere un gran problema fattorie frutteto allora anche questo qua è largo 4 se lo vado a piazzare qua non dovrebbe creare troppi problemi di traffico queste qua sono olive evidentemente ok e poi faremo la stessa cosa magari riusciamo a farne appunto un altro qui quindi questo qua produce olive ha bisogno solo di acqua ora ci serve una fabbrica di olio ovviamente e poi la fabbrica di farina a quel punto poi possiamo prendere il pollo la farina e l'olio e fare il pollo fritto che è lo scopo finale di tutto quanto allora assi di legno dove consegna di 51 assi di legno a stale allora per me è un po' lontano ma ho la fabbrica pronta e ho un sacco di tempo quindi io mi ci butto perché sono un sacco di soldi ok abbiamo vinto finita questa che probabilmente ce la facciamo non è detto no forse falliamo per pochissimi giorni guardate 43 no non ci posso credere 44 45 ragazzi no no di pochissimo cacchio allora destinazione scegli destinazione contratto porco cane dai avete visto di quanto cioè forse se avessi fatto un collegamento stradale qua ce l'avremmo fatta una cosa di questo tipo vabbè lezione per il futuro ora qua raccogliamo anche l'olio magari ci metterà un po' fare i primi raccolti dicevo la fabbrica potremmo farla in questa zona io potrei volere un altro magazzino qui perché alla fine noi ci serve per fare il pollo fritto quindi questo farina olio e pollo e basta da qua poi portiamo fuori il pollo fritto che è lo scopo di questa vita consegnato cos'è questo centro città allora ok ok questo è il mio e scende velocemente il tempo però eh beh mi chiede siamo già parlando un sacco questo cos'è avanzamento villaggio ci devo portare pannelli murari e mattoni ci devo farli io il tubo di rame e con questo potenziamo la nostra città posso consegnargli quando voglio ok allora se dobbiamo andare a recuperare il rame facciamolo perché tanto è qua e aspetta solo di essere venduto diciamo io andrei francamente a posizionarlo anche in quest'area chi se ne frega se è su una strada direi secondaria perché non si può era sopra qualcosa vabbè fa niente lo mettiamo qua come funziona questo raccolgono da soli devo mettergli le strade ce ne devo far passare le strade da qua giusto no quindi abbiamo un rame si esatto sono delle miniere che funzionano in questa maniera e poi devo estrarre la sabbia allora estrazione della sabbia e ora qua un bel problema cioè io non ho non ho idea di dovesse estrarre la sabbia dal mare da dalla terra che serve il mare probabilmente giusto si quindi non va affatto era possibile che fosse una cosa del genere comunque ma io non ci ho voluto credere usiamo questo e usare questo così teniamo questa pozza d'acqua pulita cioè non so se questo genere inquinamento ma insomma almeno ci togliamo ogni dubbio facciamo qui si esattamente era qua allora uno due tre perfetto e poi questo per ora facciamo semplicemente così tanto non c'è bisogno di fare le cose fatte super bene ok quindi questo richiede semplicemente acqua e possiamo già farlo almeno forse serve la tech questo servono prima i tubi di rame che loro volta semplicemente una modifica una modifica del rame vediamo se possiamo già fare qualcosa bevande carpenteria non penso che sia questo allora a noi serve a noi serve questo e quindi fanno prima questo per questo ok e il muro 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 sarà qua no tessile pietro metalli e qui ok abbiamo messo in coda quello così possiamo sviluppare la città e ora possiamo tornare a noi allora se dobbiamo fare un complesso diciamo alimentare voglio mettere in una zona la fabbrica sia dell'olio comunque si apprende un sacco di soldi la fabbrica sia dell'olio che della la situazione economica è grave sia dell'olio che della farina però mi sa che se continuiamo così non riusciamo a fare nessuno dei due questo qua è strappieno abbastanza ci serve un altro magazzino allora potremmo fare così mi sta sulle balle che non si esimmetrica alla cosa ma d'altronde sono fatti in questa maniera quindi entrano escono fanno il giro eh no meglio fare così meglio fare come allora le risorse devono entrare quindi da qui e uscire esattamente il contrario di come ho impostato la cosa cioè dovrei piazzarlo diciamo così semplicemente così è la cosa migliore sì anzi no lo mettiamo proprio qua ok così va bene avviso punting chi è che non riesce come mai non riesci non ha senso lo sai vero non ho cambiato nessuna strada ho cancellato un pezzo di strada inutile non puoi dirmi che non puoi muoverti chi è che non riesce ad arrivare questi tre arrivano tutti e poi devono rifare il giro c'è un bel po' di traffico qua sono addirittura aumentati i malus tu la sabbi la compri vero risorse commerciale perfetto rame ma rame non lo compra si compra la legna si di destinazione spero che la legna gli venga portata anche da lui cioè ora dovrebbe fare delle richieste diciamo richieste legna quindi la legna va tutta a lui che in realtà non è buona come cosa però purtroppo lui è pieno di questi e non posso farci niente dobbiamo aspettare le ricerche per fare prima il resto ho sempre c'è l'olivo di oliva che di per sé ci serve poco abbiamo un sacco di grano un sacco di farina cosa compri tu di quello che io ho nulla l'acqua neanche l'acqua compra questo compra le olive iniziamo a vendergli le olive a quella città qua con la R quindi destinazione olive commerciale questo qua perfetto quindi vendiamo uno questo qua lo riteniamo diciamo in riserva siamo a capienza 74 quindi diciamo che inizia a essere anche full dovremmo mettere un altro magazzino in questa situazione forse è il caso del passare un po' la velocità per evitare disastri allora questo qua perché mi dà questo messaggio sei collegato puoi uscire la gente passa ho visto un camion entrare è inutile che mi dici che non puoi uscire non mi fido via avviso gameplay avviso production stoccaggio completo me ne ero accorto me ne ero accorto o mettiamo il grano qui boh per ora mettiamo il magazzino qua è l'unica dovrebbe fare anche lui un certo tipo di lavoro mettiamo i richiesti di olive richiesta di dei prodotti finiti qua sono facciamo questo qua i prodotti diciamo di secondo livello quindi uova e pollo mentre tu mi fai richieste di acqua grano abbiamo pochissimi mesi di vita acqua grano e cosa facciamo qua acqua grano basta acqua grano farina ce l'hai qui ma per adesso timitela lì dentro ok richiesta della la rotta in uscita l'ho messa qui della sabbia si quanto spazio sai se anche tu al massimo porca miseria no però qualcosa è uscito qualcosa è entrato facciamo richiesta anche qua della sabbia estenazione sabbia allora magazzino no facciamo commerciale così va bene tubi di rame perfetto questo continua a darmi lo stesso errore o perché c'è pieno questo magazzino ma non ha senso abbiamo bisogno di un miracolo forse falliremo e allora riprenderemo tutto a capo però vedremo nel prossimo episodio come andrà a finire se dovessi fallire ne riniziamo un'altra perché ho imparato qualcosina probabilmente è meglio procedere per gradi e non disperdersi troppo adesso ho cercato di fare delle cose extra però probabilmente non eravamo in grado di supportare tutto questo cioè fatemi capire un po' che spese abbiamo cos'è che grava così tanto sul bilancio costruzione demolizione e va bene però di per sé non guadagniamo cioè tra l'altro gli introiti qui al di là delle una tantum sono questi che ci fanno perdere un sacco di soldi prestiti sanzioni mensili abbiamo una sanzione probabilmente perché ho fallito il contratto e per quanto dura questo spese di ricerca e sviluppo che potremo smettere di fare tech per un po' che non è una cattiva idea quindi potremmo smettere in futuro manutenzione veicoli vabbè questo c'è poco da fare manutenzione edificio diciamo che magari potrei evitare cioè ora ho fatto un po' di tutto se ci focalizziamo su qualcosa di più intelligente abbassiamo di sicuro anche questi due comunque anche andando a eliminare diciamo questo e questo siamo sotto cioè non riusciamo a vendere a sufficienza il mese precedente saremmo stati su ora che giornate il mese 25 marzo si temo cambi davvero poco dai ci vediamo nel prossimo episodio che potrebbe essere quello del fallimento se non dovessi fallire andiamo avanti se no magari iniziamo da capo anche se devo dire che la mappa mi piaceva quanto perché appunto abbiamo tre città vicine e addirittura ora stiamo vendendo qualcosa nella città della nostra concorrenza che ovviamente farà crescere quella città ma d'altronde gli rubiamo i soldi che poteva fare facili quindi sono abbastanza felice qua produciamo sabbia più che altro secondo me è un problema logistico adesso perché cioè questo magazzino per esempio è proprio nella posizione perfetta questo magari andrebbe spostato di uno in qua in maniera tale da non ingolfare questa strada ma non vedo una quantità di traffico così grave cioè tolto questa parte che nel senso sono due o tre camion e un pochino questo incrocio non è neanche lì il problema quindi deve essere nascosto da qualche parte però abbiamo dello spazio di miglioramento quindi potremmo effettivamente provare a farcela per esempio potremmo rimandare tutto questo progetto del rame vi dicendo a dopo e spegnere delle 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 industrie dei campi che in questo momento magari non ci stanno fornendo energia tipo potremmo decidere che non ci interessa sistemare la questione dell'inquinamento il rame in questo momento lo sto raccogliendo ma di per sé senza fare questi non mi serve a nulla quindi lo possiamo spegnere dai sto continuando a giocare invece ho detto che ci salutiamo quindi ci vediamo nel prossimo episodio vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di condividere i video con i vostri amici GG a tutti